Benvenuti alla prima edizione degli eSports Summit versione online. Abbiamo cercato di verificare quello che era lo stato di crescita di un fenomeno, di un settore in forte espansione. Per noi eSports rappresenta molte opportunità per aiutare un mondo diversi e generazioni per creare una connessione. La persona forte sul gioco viene sempre considerata una persona che sta tutto il giorno a giocare. Ma l'eSports noi lo vediamo poi, sempre parlando di visualizzazione, anche come un ambito di sperimentazione. Intorno a queste sfide c'è un pubblico di appassionati enorme che genera dei numeri di view di visualizzazioni che sono in alcuni casi pari, se non superiori, a quelli di alcuni match di Champions League. Cioè, i club hanno vissuto fin dall'inizio la E-seria Team come una grandissima opportunità. Ed è molto più facile ora fare il risalto per diventare un professionista. Il settore sta vivendo una sua epoca dell'oro. Non so se non vado a vincere questa settimana, voglio vincere in 2-3 anni. Alla prima occasione del gol e mi schilla subito. No, no, tranqui. No, tranqui. Adesso, pari. Adesso, pari. SChe. Grazie a tutti.